A Teramo torneranno ad essere totalmente fruibili a partire da domani mattina altri quattro padiglioni del cimitero monumentale di Cartecchio, danneggiati dal sisma, questo grazie ai lavori appaltati dal comune alla Team. L'intervento, reso possibile grazie ai fondi ottenuti dalla protezione civile e arrivate al termine di un'interlocuzione tra amministrazione comunale e l'ex capo della protezione civile Angelo Borrelli e il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, proseguirà con i lavori sugli altri tre padiglioni inagibili che dovrebbero concludersi tra fine aprile e la prima metà di maggio. Sì, domani apriranno altri quattro padiglioni che con quello che è stato già aperto qualche mese fa saranno cinque, ne rimangono solamente tre, crediamo la ditta e la teramo ambiente, il direttore dei lavori ci dicono che praticamente entro il mese di fine aprile e metà maggio dovremmo riaprire totalmente tutto il cimitero. E' stato un risultato importantissimo perché da troppi anni i cittadini aspettavano di poter tornare a vivere il cimitero in tutte le sue zone, in tutti i suoi padiglioni, in tutta la sua superficie. Una risposta molto attesa e poi questa era una promessa che lei aveva fatto alla città. Diciamo che poche settimane dopo l'assegnazione alla delega di responsabile di protezione civile siamo andati insieme al sindaco a parlare con l'ingegner Borrelli che capì la problematica e siamo riusciti a ottenere dei finanziamenti che poi si sono tradotti in una riapertura dei padiglioni che erano inagibili. Per cui voglio dire un risultato strabiliante, ottenuto in pochissimo tempo, in pochissimi anni, compreso il ritorno all'agibilità di tutto il cimitero. Mentre per quanto riguarda gli altri cimiteri comunali? Stiamo lavorando per gli ampliamenti, ci sono già sei cantieri aperti, ne apriremo ancora degli altri e dovremo iniziare a pensare a fare anche dei lavori su altri cimiteri tra cui quello di Miano che veramente ha bisogno di interventi importanti.